Cari amici, ci risentiamo per questa nona puntata delle trasmissioni che Radio Caris e sta dedicando all'esortazione apostolica a Moris Letizia di Papa Francesco, documento che, come sapete, tratta il tema del matrimonio e della famiglia che è stato peraltro oggetto di ben due sinodi mondiali dei Vescovi, oltre che di una vasta consultazione di tutte le chiese locali. Il documento pontificio, che noi stiamo analizzando, certamente tiene conto di tutto questo lavoro di preparazione e offre delle preziose indicazioni pastorali per quanto riguarda questi temi di scottante attualità, quali sono per l'appunto il matrimonio e la famiglia. Nelle precedenti puntate ci siamo occupati dei primi cinque capitoli, dei nove in totale di cui si compone il documento di Papa Francesco. Passiamo in questa puntata ad analizzare il sesto capitolo, intitolato dal Papa Alcune prospettive pastorali. È un capitolo molto articolato in cui il Papa si dedica ad affrontare per l'appunto alcune prospettive della pastorale della famiglia, volte tutte quante al compito fondamentale che la Chiesa ha di annunciare il Vangelo della famiglia oggi, cioè nel mondo in cui viviamo. Qui non si tratta soltanto allora di proporre, dice il Papa, alcune norme morali, ma si tratta soprattutto di annunciare gli autentici valori del Vangelo della famiglia. Questa, se vogliamo, è una chiave di lettura dell'intero documento pontificio. Potremmo dire in altri termini, non si tratta solo di denunciare ma di annunciare, non si tratta solo di denunciare tutte le problematiche, le minacce, le sfide che ci sono oggi in ordine alla famiglia e al matrimonio, ma si tratta in maniera più positiva e propositiva di offrire un annuncio del Vangelo del matrimonio e della famiglia. I soggetti di questo annuncio, dice il Papa, sono anzitutto le famiglie stesse. E questa pure è un'altra indicazione molto importante. Qui Papa Francesco riprende un concetto che è stato espresso per la verità in maniera abbondante nel Magistero precedente, sia dei Vescovi che dei Papi. Il concetto è che la famiglia non è soltanto oggetto, ma anche soggetto di pastorale. Cioè la famiglia non è soltanto oggetto di attenzione da parte degli operatori pastorali, ma è anche soggetto attivo, protagonista dell'annuncio del Vangelo del matrimonio. E qui Papa Francesco, al numero 200 dell'Amoris Laetitia, dice con chiarezza che soggetto dell'annuncio del Vangelo della famiglia sono anzitutto le famiglie stesse, ma naturalmente poi soggetti di questo annuncio sono i presbiteri, i religiosi e insomma tutti gli operatori pastorali. Una particolare attenzione, dice Papa Francesco, va apposta anzitutto alla preparazione dei fidanzati al matrimonio, che è un impegno di tutta la comunità cristiana ed implica una partecipazione dei nubendi, cioè di coloro che si preparano a ricevere il matrimonio, a celebrare il matrimonio, alla stessa vita della Chiesa. Quindi dice Papa Francesco che la preparazione dei fidanzati al matrimonio non può essere soltanto quella immediatamente prima della celebrazione delle nozze. Questa preparazione deve cominciare già remotamente, addirittura nell'età adolescenziale. Ci deve essere un maggiore sforzo da parte di tutta la comunità cristiana di preparare gli adolescenti, i giovani, all'affettività, alla sessualità e quindi anche poi al futuro matrimonio. È una preparazione che non può poi non tener conto, scrive Papa Francesco, delle diverse situazioni in cui si trovano oggi i fidanzati. Chi come me si occupa concretamente di questo, perché io faccio il parroco da diversi anni, sa benissimo che ormai è difficile nelle nostre parrocchie avere un corso di fidanzati per così dire tranquillo e normale, nel senso che in ogni corso dei fidanzati ci sono varie tipologie di giovani che si preparano al matrimonio. Ci sono conviventi, conviventi già con figli, ci sono persone che sono ancora in età molto giovanile e altri invece che si accingono a celebrare le nozze in età abbondantemente adulta e matura. Ci sono varie tipologie di cui bisogna tener conto. È soprattutto importante, dice Papa Francesco, aiutare i fidanzati a conoscersi bene prima di sposarsi perché l'abbaglio iniziale porta, scrive, a nascondere o a relativizzare molte cose. Quindi il percorso di preparazione al matrimonio, è preferibile usare il termine percorso più che il termine corso, il percorso di preparazione al matrimonio deve favorire la mutua conoscenza dei nubendi, dei fidanzati, proprio per evitare poi spiacevoli o sgradevoli sorprese. È chiaro che il matrimonio è sempre altra cosa rispetto al fidanzamento, no? Tutti gli sposati sarebbero d'accordo nel dire che una cosa è essere sposati e una cosa è essere fidanzati. Sono due cose diversissime, però è altrettanto chiaro che il fidanzamento deve servire a conoscersi bene proprio per evitare, ripeto, o eccessive aspettative che poi rimangono deluse e frustrate o addirittura veri e propri abbagli, come li chiama Papa Francesco, abbagli che, dice, appunto portano poi a nascondere o a relativizzare alcune cose che pure sono importanti. Dice in maniera molto precisa Papa Francesco al numero 210 che molti giovani arrivano al matrimonio senza conoscersi. Vi leggo proprio testualmente le parole del Papa. Si sono solo divertiti insieme, hanno fatto esperienze insieme, ma non hanno affrontato la sfida di mostrare se stessi e di imparare chi è realmente l'altro. Mi sembra che, più chiaro di così, il Papa non poteva dirlo. Noi ci potremmo chiedere, cari amici, ma come si spiega il fatto che, a fronte anche di fidanzamenti molto lunghi, poi i matrimoni celebrati spesso durano pochi mesi. Cioè, come si spiega il fatto che ci possono essere e ci sono coppie di fidanzati, sono stati insieme per 10-12 anni e poi si sposano e dopo 6 mesi si separano. E' segno evidente che quei lunghi anni di fidanzamento non sono serviti a conoscersi bene, a assumere le responsabilità poi tipiche del matrimonio, di fronte alle quali poi si crolla. Perché un conto è, come dice il Papa, divertirsi insieme, fare delle esperienze insieme, un altro conto poi è doversi assumere quelle responsabilità anche ordinarie, quotidiane, di cui è fatto un matrimonio, perché un matrimonio è fatto anche di bollette da pagare, è fatto di una casa da gestire, poi anche dei figli che possono ovviamente venire, eccetera. Di fronte a questo spesso le coppie crollano. Allora, credo che sia importantissima questa indicazione del Papa circa la preparazione dei nubendi al matrimonio. Molti problemi che si presentano poi dopo il matrimonio possono essere prevenuti, in qualche modo, attraverso una adeguata preparazione, attraverso un sostanzioso percorso di preparazione al sacramento del matrimonio. Papa Francesco poi in questo capitolo dice anche che va curata con una particolare attenzione anche la celebrazione del matrimonio. Soprattutto la celebrazione del matrimonio va curata evitando di lasciarsi assorbire dagli aspetti consumistici che addirittura portano alcuni conviventi a non sposarsi perché, scrive il Papa, pensano a festeggiamenti troppo costosi. Sembra ridicola questa cosa ma eppure è realistica e molto vera. Alla domanda perché non vi sposate in chiesa, perché siete andati a convivere, perché vi siete sposati solo civilmente, molti rispondono perché non abbiamo avuto i soldi per fare la festa. Cioè non c'è un diniego del valore sacramentale del matrimonio, un odio alla fede, che ne so, motivazioni di questo genere. C'è soltanto una motivazione consumistica. È come dire che l'aspetto consumistico della festa è più importante dell'essere in grazia di Dio, perché è chiaro che due conviventi vivono una situazione oggettiva di disordine morale. Il modo unico che due battezzati hanno di convivere è quello di celebrare il sacramento del matrimonio. Tutte le altre forme sono, da questo punto di vista, disordinate sul piano morale. In altri termini sono peccati. La convivenza, il matrimonio solo civile, come vedremo poi in seguito, sono certamente delle forme inadeguate per due battezzati che sono chiamati a vivere il loro rapporto coniugale come un sacramento. E quindi sono chiamati a celebrare in chiesa le loro nozze. Ecco, questo è un aspetto che Papa Francesco coglie mostrando così di conoscere molto bene, con tanto realismo, le situazioni concrete in cui vivono i giovani oggi. Al numero 212 il Papa ammonisce E quindi un'esortazione a sganciarsi da questi modelli consumistici che spesso appunto inducono a non celebrare il sacramento del matrimonio proprio perché non si hanno i soldi per fare la festa. Preparazione della celebrazione nuziale significa poi aiutare i fidanzati a capire il senso della liturgia, aiutare i fidanzati a scegliere insieme i testi biblici della loro celebrazione, aiutarli a capire l'importanza della preghiera in comune, l'importanza del consenso che si esprimeranno davanti alla chiesa, davanti al ministro della chiesa. Insomma, preparare adeguatamente la celebrazione è, potremmo dire, esso stesso una forma di evangelizzazione del matrimonio e della famiglia. Ancora, Papa Francesco in questo sesto capitolo dice che bisogna prestare molta attenzione pastorale ai primi anni di matrimonio, quando le coppie sono ancora segnate da una forte fragilità affettiva e sono chiamate a mettere da parte le rivendicazioni di diritti, le illusioni, le competizioni. È chiaro che i primi anni di matrimonio sono delicatissimi, sono difficilissimi, perché legittimamente si sono coltivate delle aspettative, forse poi delle illusioni, altrettanto legittimamente si possono rivendicare dei diritti, altrettanto realisticamente si può dire che cozzano due personalità che sono molto differenti fra di loro e devono abituarsi a stare insieme. E allora bisogna rendersi conto che ogni matrimonio conosce diverse tappe di crescita che vanno accompagnate in modo tale che i due sposi, i due neo sposi, i due novelli sposi, possano non nutrire aspettative troppo alte e capire che la costruzione del loro matrimonio è, come scrive Papa Francesco, artigianale, perché richiede un cammino di maturazione, fatto di pazienza, fatto di impegno, che la comunità cristiana deve poter accompagnare con adeguati strumenti pastorali. Mi fermo qui per questa nona puntata e vi do appuntamento alla prossima. Arrivederci e risentirci.